Nasce un nuovo brand per Faenza, Faenza Città della Ceramica. Il progetto è sostenuto dalla regione, nasce all'interno del comune di Faenza. Il nuovo city brand per Faenza Città della Ceramica. Era un qualche cosa di cui sentivamo molto la mancanza, in quanto Faenza aveva necessità davvero di avere una immagine che potesse essere riconoscibile e riconosciuta, in grado di veicolare questa che è una delle caratteristiche principali della sua identità.